Alzano la voce i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle della lista Teramo 3.0 contro l'amministrazione Bruchi, che in questi ultimi anni non avrebbe speso un centesimo per la sicurezza delle scuole. Ora la cosa più importante è dare risposte certe ai cittadini terramani e per questo i grillini sono pronti a manifestare il 22 novembre a Roma sotto Palazzo Chigi. Noi chiediamo che il sindaco richieda immediatamente questi moduli scolastici provvisori, che nel frattempo che arrivino questi moduli si pensi anche a un provvedimento di legge per rendere facoltativo il rientro a scuola da parte degli alunni per non perdere ovviamente l'anno scolastico. Successivamente bisogna programmare e studiare la finanziaria che si sta per presentare per trovare le risorse e coperture per nuovi edifici scolastici. Tra le proposte anche quella della consigliera comunale di opposizione Maria Cristina Marroni, che suggerisce di redigere una guida per ogni scuola dal titolo Sicurezza 10 e Lode per informare e tranquillizzare studenti e genitori sugli interventi antisismici. Ma le accuse più grandi della Marroni vanno all'inefficienza del comune di Teramo, che non avrebbe mai utilizzato i fondi pubblici dedicati a migliorare le proprie scuole. Ho fatto un'indagine con i dati ufficiali della protezione civile. Il comune di Teramo non ha avuto assolutamente nemmeno un euro e mi viene da chiedere se questi soldi siano stati o meno richiesti. Perché nella provincia di Teramo soltanto la scuola elementare di Favale, quindi nel comune di Civitella del Tronto, ha ottenuto un fondo di più di 407 mila euro per l'intervento in questa scuola. E intanto a Teramo si allunga la lista delle inagibilità riscontrate dalla protezione civile. Altre nove ordinanze di sgombero per 23 famiglie a Piano della Lenta, Frondarola, Cavuccio, nella centrale via Riccitelli e a Campofiera. C'è poi l'inagibilità della scuola di Villaripa, ma quella che fa più paura, anche se parziale, riguarda il Palazzo della Prefettura, un simbolo della città di Teramo che non riesce a mettere la parola fine alla conta dei danni post-sisma.